L.M.G. Usare le L.M.G. Sempre, sempre classifichetish. Sono di un'entale, soprattutto. No. Ah, Dio. Che c'è, Micia? Qua c'è, si curiosa. L.M.G. No, quelle coccole. Ho visto di tutto. Non si sorprende. Ne vedremo delle belle, vero? Ne vedremo delle belle belle Sono Bloodhunter Potete chiamarmi Bloodhunter Ecco il campione Che le ultime leggende che ho fatto a pezzi Servavano ottimiste Sì, ti voglio bene Non mi stai rompendo il cavo C'è una patata La battaglia già c'è al di sotto Ma perché? Oddio signore Nemico individuato Andiamo da questa parte Non ce ne ha le risate E' non tanto bello Qui c'è uno scudo Evo Livello 2 Sto per saltare Ti ringrazio tesoro Sono a terra Ho bisogno di aiuto qui Padre di tutti i dei Concedimi la vita Granata Grandi compagni Grandi Comincide proprio di Predator E poi ho perso un botto di dita Solo per quello stronzo di merda Campe bell Campe bell Ma quando è bello stu Campe bell Nereni Con la mia artiglieria pesante Non ne ho bisogno Sono in arrivo Grandi cose per noi Jacket bug Abbiamo tempo per fare due cacchiere Ecco il campione Per farmi paura Sì come no Sono la Jump Master Seguitemi Allora 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 Staccatevi Grazie amici Round 1 Inizio controlla Rovescia Qui c'è un radius Oh Oh C'è mai ripendo anche lo zaino Vabbè una brutta cosa Scudo no eh Troppo complesso Qui c'è uno scudo evo Livello 2 Qui c'è un mafis Molto raro Potenti munizioni Tutto mio Qui c'è un emlock Qui c'è un caricatore Leggero esteso Livello 1 Wow Qui c'è una capsula Rifornimenti Vado a fare un giro qui Grazie Sembra che quella zona Sia stata comprometta Versaglio avvistato Ok Mi serve un caricatore Pesante e steso Prima vittima Prima vittima Meno male che non siamo noi Potremmo andare qui Sto ricaricando Sto ricaricando Non stai ormai Non stai arrivando dai palaggi Ti spavano addosso Divuata Devo agire in fretta Datemi un secondo Sto ricaricando gli scudi non si tocca bene un cazzo ok sono stato utile come scudo o sono stato utile? mi curo copritemi oh che l'altra l'ha in questo il missile no faccio una pausa devo darmi una sistemata potrebbe esserci del bottino vi terrò informati no non ci credo mi servono munizioni pesanti capito ho capito prima impiego un po' di colpi qui c'è un caricatore pesante esteso livello 3 no è neanche un cazzo il colpo pesante c'è non ci credo qui c'è uno stabilizzatore camma livello 3 qui c'è un otturatore per shotgun livello 2 nemico proprio qui occhio tesorino c'è un nemico mi stanno sparando mi sparano non è andato a terra non è andato a terra va beh vabbè ma è che l'ho visto eh che palla è quello di merda basta mi stanno sparando un nemico individuato un replicatore sta entrando in orbita qui ci sono munizioni pesanti ricarico e a quello ricarico gli scudi l'ha ucciso what? scusa dove è il terzo? sparito mi stanno sparando ricarico ricarico c'è un imbecile qua giù c'è una camera di munizioni pesanti amico i culo mi culo e arrivo mi inculo e arrivo ho 13, vecchio, ho 13, c'è le scude qui ci sono munizioni pesanti dai, neanche munizioni pesanti ci sono mi servono munizioni pesanti sto ricaricando quando sei triste, girati su se fossi in bui, cercherei un riparo l'anello si sta muovendo un altro depistato andiamo da questa parte orca puttana, non ho visto la shape è abbastanza lontana non è abbastanza lontana è abbastanza lontana Ok Vado a dare un'occhiata qui Ok Ho più celle scudo che colpi per l'arma Proviamo Ascolta sto chiamando una capsula assistenza Rifornimenti extra Qui c'è una siringa Vi siete divisi Perchè cazzo vi siete divisi raga Perchè 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 porca puttana Perchè dovete dividervi Perchè cazzo Perchè cazzo è un nemico E' sparito E' sparito col trampolino E' pezzo di merda Controlliamo quella zona Non siamo tutti nell'anello Controllate le vostre posizioni E' un posto di merda Perchè cazzo ha fatto andare a terra Come cazzo ha fatto andare a terra? Porco dio Ho capito come ho fatto andare a terra Sono in tre squadre che sparano Ti lascio morire cazzo Ti lascio morire cazzo Lascialo venire che lo scopriamo Lascialo venire Non andare Non andare Non andare Non andare Potrebbe esserci qualcosa di interessante Da questa parte Rilascio drone di guarigione Andiamo da questa parte Eh Per dio Tre ore te lo dico Tu cazzo Dopo questo non ti do più niente Coglione Dove che andare Ricarico gli scudi No Dammelo a me No raga Dovete darmelo a me Lo scudo Lo zaino Dammi lo zaino Eh Grazie Ma cazzo ti resta Incoglionita Un minuto L'anello è vicino Oh Un batteo Sto ricaricando Nemico individuato Da 10 secondi Sto ricaricando gli scudi Mi servono munizioni pesanti Rimando Ricarico gli scudi 45 secondi L'anello è proprio lì davanti Nemico laggiù Un'occhiata qui Non è pesanti E guai avere pesanti Sto stronzo Dovremmo andare qui Ricarico gli scudi Qui ci sono munizioni pesanti Quegli imbecilli mi stanno sparando Potrebbe esserci qualcosa di interessante da questa parte Mi servono munizioni pesanti Può salire Può salire Oh mio Dio Possiamo sparare No Figa Torca troia Vinto Abbiamo vinto What the fuck Is a very good Mamma mia aspettavo Ci hanno pushato come dei peodi Sono stati scopati male Naturalmente Si è straconvinto Guarda questi qua sono bloccati Non possono muovermi Peccato che non ci sono L'ultimo che era sopra di loro Che gli sparava Facchetto Dai E il lupi Dai lo sento Lo sento E qua caldo Parco Relax Eh mi arriva Relax Sì Ceteo E' possibile Purtroppo Bassissime Bassissime Vecchio Bassissime Però è possibile C'è fino a mai uno Che aveva due pacchetti E ha preso da due pacchetti Tutte e due I materiali Per fare I cimeri di famiglia Tutte e due i pacchetti Gli han dato Due cimeri di famiglia No è casuale Vecchio È casuale Può essere C'è lo 0,01% E lui l'ha beccato Di okane due volte Figa Te pensa che culo di merda È culo Sì quello è garantito Però Bisogna anche Avere la fortuna Perché c'è quella percentuale Dove puoi avere No vabbè Quelli li apri Nel senso Le partite le fai I pacchetti te li dà Nella season Quelli li apri Vabbè Però vecchio Questo qua ha avuto il culo Di aprire due pacchetti assieme Due pacchetti Tutte e due I cimeri Ha beccato praticamente Io Io non so Ma pesante Ma proprio Giù Giù Ma neanche il Dio Riescirebbe a fare una roba del genere E io Sono a non so quanto Di tempo A giocare a sta merda Di gioco E non so Quante volte ho aperto pacchetti Mai una fottuta volta Mai una Porca mia Mai 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 E non ne ha aperti Ancora cinquecento Perché se no Ma ne ha dati Vuol dire che non ne ha aperti Cimeli Fatta quello Lui ha beccato Lui ha aperto Due pacchetti In due pacchetti Gli hanno dato Tutte e due I materiali Per i cimeli Cioè non ti da Zero Vecchio Zero Io non ho mai beccato Una volta un materiale No No Zero Perché quando tu apri il pacchetto Te li da Già Tutti e tre Non è che ti da Un materiale a caso No no Quando tu apri il pacchetto Te ne da tre Secchi Sono cinquanta Cinquanta e cinquanta Ci vuole Un Ma Ma Una fogna Non è niente Mila di scarica Figlio Io davvero Ma Non ho veramente parole Su questa cosa Non ho veramente parole Non so quante volte Ho aperto i pacchetti E una volta L'ha preso Sté E ha preso Gibi Lui ha preso I materiali E ha preso Gibi Certo Si si Non ti da Ma che No no Te li da Una volta Però te li da Tutti Sì Per avere Un cimelio Questo è il posto Perfetto Per scatenare L'inferno No Ma anche se Shoppe vecchio Non te lo da L'unico per averlo Che devi shoppare È questo evento qua Dell'anniversario Che praticamente Ti da Quando tu prendi Tutti i personaggi Cioè 24 E spendi un botto Vecchio Spendi un botto Quando tu prendi Tutti i personaggi E li ti da materiali Per avere un cimelio Per avere un cimelio Sì ma è più di spendere Un casino Non è bugato Non è bugato No no Questo proprio deve avere il culo Cioè Esatto Cioè non è una questione Di bug E roba Il genere Ritornamenti extra Da questa parte Attenzione Prima vittima Prima vittima E questo è Soltato un po' troppo Non so che c'è il nemico C'è più di un nemico Rincoglionito C'è più di un nemico Porta puttana Capito Bomba a grappolo in arrivo Gente Apro il fuoco Se vi abbia uno scudo Amici Mi serve uno scudo Corporeo Mi stanno sparando Lancio granata Termita in corso Termita in giota E cala E cala E cala E cala E cala Perché guadagni 200 punti E poi trovi Gli incompetenti Che giochi Figa Perché Perché Questo è un gibbo Che si fa buttare a terra Così Dalla distanza Perché Convinto lui Io sono un pro Io li ammazzo Non Guarda sto perdendo troppa vita Forse è meglio che mi riparo No Questo ha messo uno scudo E voleva fightare Con lo scudo Dalla distanza Dopo magari Li senti in chat No Senza mouse e tastiera Non sono capace Difisso Difisso E quello di vengere i coglioni Perché cazzo Vieni a giocare a playstation Con Mario e tastiera Quello che mi domando io Trovi quella gente No Non la metti Non la metti Vai sul pc Non rompi i coglioni Ho trovato anche su rainbow Vecchio Io ne ero mutato Questo qua su rainbow Oh ragazzi Senza Mario e tastiera Non ce la faccio Ma che cazzo Dici su playstation Abbiamo un lavoro da fare Quindi datevi una mossa Certo ma devi spendere 150 euro Per avere la chiavetta Per attaccarlo Ma che cazzo di senso ha No eh Almeno sulla 5 Non lo so Però io ti sto dicendo Sulla 4 Quando giocavo a rainbow Sulla 4 no eh Non vengono letti Non vengono letti Come accessori Eh pota certo Figa se ti mettono un joystick Ci sarà un motivo C'è un modo Devi mettere una chiavetta Che praticamente I tasti che tu usi Fa capire che in realtà Sono i giochi Cioè tu devi Non lo so Hackerare Craccare la playstation Per riuscire a fare Ste cagate Porco dio Che non hanno senso Figa Se tu giochi su console Usi il joystick Vuoi usare maio Se tastiera Vai su pc E' così bello il pc E' potente E' veloce Spendi un po' Però dopo ti dura Ah senza logica Senza logica Senza logica No senza logica Sto ricaricando Il prossimo anello Non è Basta ti attra Di stronzo Ricarico Tu hai il mio spudo Viola Mi servono munizioni Energetiche Mi servono munizioni Leggere Devo ricaricare I miei scudi Ho stabilito Un contatto Con il nemico Mi servono munizioni Leggere Dovremmo andare qui Devo ricaricare I miei scudi Dobbiamo andarcene Assolutamente rapidi Come delle frecce Perché non ho dato L'uccisione All'annoressata Quella puttana Questa non è buona Qui c'è una wingman Attenzione Siamo di nuovo sotto attacco Fuoco in arrivo Qui c'è uno scudo evo Livello 2 Salto temporale Contatto conversato 45 secondi L'anello è lontano Ritardo Mi hanno individuato Nemico vicino Contatto conversato Contatto Sto stabilendo un contatto Con il nemico Fai silenzio Ho il partner Rissarti Non so se è una grande idea Alla in cima Te che dici Eh sì sì Proviamoci Attenzione Anello Siamo fuori dall'anello Certo Non potranno uccidervi Siete già morti Grazie Mi servono munizioni energetiche Merda Sto chiedendo anche la safe Capsula di fornimenti Ci sono munizioni energetiche Lo sentite? Potrebbe farmi comodo La mia prossima vittima è laggiù Raggiunga la torre di lancio Ora proviamo a fare meglio mi stanno sparando mi servono munizioni pesanti sembra anche a me amica una Spitfire indovina quanti colpi mi servono che cazzo cazzo ci chiu mamma mia dall'altra parte il mercato ma che cazzo devo andare non cazzo 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 non cazzo 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 io sono andato quindi non posso pensare a me questo c'ha questo c'ha la sentina ho sparato prima uno e l'ha mancato completamente vecchio non la usi la sentina se lo sei capace non la usi non la usi fai qualcos'altro, usa un'altra arma usa l'ombo, usa il tripotech, radius no, ecco, guarda, guarda che calmo ma io anch'io ho a che fare questo se vuole così, guarda fermo la live e esco no, 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 no faccio tu zombie di me, mi ero toccato me la sanno ah sal per il cane fai dai a multa non la faccio a genere non so quanto affare si possono fare però l'uniforme è una doppia multa solo per la proposta cosa cazzo vuoi fare a noi? doppia multa, va via il corrotto e in più sei brutto in più sei brutto fichino di gamba fuori calca voi io ho fatto un po' cattiva spara tutto quello che vede questo qua è da solo e spara tutto quello che vede vai figa ah dai tu mi rendi solo felice il sniper ghost warrior, dove va? eh già fortuna che non ti sentono te perchè mi dovrei dissociare però ti do ragione snipe snipe per idiotuori no no non c'è più no no non è per i bug questo qua lo fa perchè no allora ti ho l'arma guarda che l'arma è forte cioè se tu la carichi con la cella scudo ti fa un botto di danno ok l'arma non è da schifo vabbè vabbè però devi essere bravo ad usarla cioè questo qua ha sparato tre persone che stavano sparando in altre squadre la beccati due cioè non puoi giocare così allora è una è una certezza che tu non sei capace ok è naturale che tu devi provare ma non provi in classificata provi in libra provi in proligono continua ad usarla finchè non la impari non la provi in classificata cazzo è forte l'arma è forte l'hanno migliorata perchè prima ci vuole una batteria perchè ricavano adesso ci vuole una cella e quindi quale ce ne hai però devi essere capace di cecchinare di sapere quando cade il colpo di sapere quanto tempo ci vuole a colpire un nemico cioè no e sto dicendo sentina sentino e sto dicendo ok ah ok attenzione anello in movimento sono nell'anello sono nell'anello capsule assistenza in rito sono nell'anello potente sono nelle se ne interessa non no non 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 Sì. 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 dobbiamo usare ancora una palla uso un minaccio pompa pompa la pompa pompa l'importante è non morire adesso mi vedi adesso no adesso mi vedi boom sei morto questo è il tuo campione so io e so come prendermelo conoscete il mio aspetto dovremmo atterrare lì ci divertiremo capito vamo los ditemi che lo avete registrato ahhh oh questo scudo vieno mi piace ehi guardate le mappe il prossimo anello non è vicino prima uccisione compadres eh un amico individuato pensare un altro me wow certo troppo bello uuuh cala i simari sguardati grazie qui c'è un opat perfora cranio perfora cranio mi piace grazie mi servono mi servono munizioni pesanti mi servono munizioni pesanti rinvio un'esca un attimo come faccio a sapere che non sono un'unica attenzione sto aprendo i cieli mi servono mi servono ricaricando gli scudi ricaricando 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 andiamo qui andiamo qui io solo amico ricaricando ricaricando cosa credevi di fare se vi possa vincere contro di me ci vediamo baby ricarico gli scudi ah amo disorientare gli sciocchi funziona mi servono mi servono livello 3 mi servono delle grazie qui c'è un opat attenzione anello in chiusura scegliatevi l'anello qui ci sono munizioni pesanti mi servono delle grazie vuoi ringraziarmi fammi un regalo mi frego con l'esca minchia silenzioso sto cazzo di forza qui c'è un caricatore leggero e steso livello 2 e dammi una retrocentina qui c'è una scatola del tesoro attenzione non ci sono abbastanza me in questo posto non ci sono abbastanza me in questo posto mancia tutto tutto ho trovato delle munizioni per shotgun uno dei loro laggiù che ne dite di questa direzione l'ho ricevuto rampolino dai un r301 101 questo è spartuto quello che vedo ma veramente prendono cammincine? oh mio dio ma volete proprio pusharli? pushamoli pushamoli si non c'è il contrario qua adesso andiamo ad andare in safe qui c'è un ottica distanza ravvicinata può tornarmi utile grazie c'è un trampolino da paura qui tutto solo beh noi ci dividiamo così fino a che mi piace è più cattivo la cosa non c'è un ottimo che non c'è un ottimo perciò non c'è un ottimo ecc è un ottimo ogni cosa che vedo non gli spalano credibile eh vabbè oh neanche io ci sono arrivato vicino dai no no non ci credo vabbè ma che cazzo è sto cuorando grazie qui c'è uno zaino livello 4 ma non rallentare ok il secondo mi sto curando non ho preso zaino ok non rega ho fatto non rega uno perchè è andato a terra ho fatto l'altro e ho mancato mamma mia io devo andare ma vi lascio questo sto guarendo datemi un secondo ho due kit venice un po' i nemici invio un'esca minuto alla chiusura l'anello è vicino qui c'è un peacekeeper da qui c'è un po' i nemici non c'è problema amico mio che robi c'è robu c'è robu forza forza Ferti farti repeater da questa parte Qui c'è un cazzo stagio L'anello si sta muovendo Ne ho bisogno Ostile laggiù Vuoi ringraziarmi? Fammi un regalo Direi di muoverci verso questa parte Cazzo l'assistenza, fantastico! Eccone uno Capito Ok Vado! Ehi, mi stanno sparando! Attenzione, replicatori Ricarico Ricarico gli scudi Ho abbattuto quello lì Ricarico È ora a piantare Ah, è svolto Ricarico Pioggia di fuoco in arrivo Scudo alzato Amico eliminato No, ci credo Non ho preso, ma non l'ho uccisa Mastiff di merda Non ci credo Dio parco Che schifo di partite sto facendo Dio cane Fine del piso Aiutare gli altri È la mia specialità Sono mancata con tutti i colpi Della winman Eh, cazzo Questi sono bravi perché sono morto Dio cane Perché dovevo ucciderlo Ma alla fine l'ho uccisa Un coglione Lasciatemi lì dove sono Ah, per Dio Non prendete il banno Trovo quella merda Di R301 Cazzo Mi resci Mi resci a far Ormai Non c'ho niente Mi sono mancato Ah, certo Mi stanno sparando Sono a terra Mamma mia I occupati GG L'intera squadra è andata L'ultimo è caduto Appeso morto Letteralmente Qui c'è un caricatore leggero esteso Livello 3 Qui c'è un'ottica Distanza ravvicinata Il destino vuole che io Sia ancora lì Porca di quella puttana Se sono riuscito a restarmi Sono andato loro Per salvargli il culo Che pensa E io l'ho salvato E ho ucciso tutti e due i nemici Porco Dio Ecco l'altro belloccio Eh, chi cazzo va a restarlo È troppo lontano 45 secondi L'anello non è troppo lontano Ce la posso fare Eh, se chi ti resta lì Ma te sei fuori Fega Qui c'è una capsula assistenza Sì Siamo vicini 30 secondi Non male Se non dovessi uscire Ti assumerei Un capolavoro Beh, d'altronde Io sono bravo in tutto Adesso io che sono invisibile Grazie Ma sì Poi è andata come è andata Non preoccuparti baby Ti copro io Scudo alzato Ce n'è uno Non ce l'ho maiuto Ah, va bene Perché cazzo siamo andati a restare Perché? Perché siamo andati a restare Perché? Perché? Vabbè Eh, sì, ciao Sì, subito Perché ci siamo andati a restare Non si sa Però dobbiamo andarci per forza Vabbè A che punto l'ho portato a casa E questo mi fa happy Questo mi fa un pepi Uno sbepi felice Beh, fanno queste sfide in merda Anche con Mirage 15 uccisioni Ne ho fatte 10 Cioè, quanto tempo che sono in live È già un'ora Potrei anche fermarla La faccio l'ultima Poi la fermo Oddio signora Non ti puoi divertire A quel gioco di merda A parte che non trovo neanche la Sammie Ma dove cazzo è? Ah, non c'è proprio Per me Deve andare col cane Ce l'ho nel sacco I miei compagni non sono mai In ogni caso stiamo vincendo Saranno perfetti come scudi Ma veloce come il vento Amino Eh, su Ogni cosa ha il suo tempo Cazzo è il diritto Questo è il tuo campione Inizia la battaglia Che gli dèi ti benedicano Sì Ha un perdito in cura Scusa, amico Rientra La prima vittima Deve essere Sto prendendo Andiamo solamente a condividerlo Guarda che mossa Rintellato Ho 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 un'occhiata qui Versoglio proprio di fronte a me C'è una tonne di ricarica qui Abbandonati alle ombre Ah, premo il tasto di espulsione Cala il sipario Mi stanno sparando Ritr***erò ma che non so Il prossimo attimo sono di nuovo al totem Cala Mi stanno sparando Qualcuno vuole proprio farsi male Farò in modo che non parlino di io Sono di nuovo al totem Cavatemela da soli Abbiamo compagnia Versoglio individuato Qui c'è una siringa Mi servono degli scudi Ah, non c'è niente di qua Ok Ah, vogliamo andare su a scoparlo? Oh, è impossibile Vecchio È ora di andare Non c'è un'occhiata termina Ah, per dire, tutto quello che vuoi Non lo pigli più Ragazzi l'anello si chiuderà Dai Sotto il cazzo Abbiamo 45 secondi Se non avete le ali Dovete muovere Qui c'è un R99 Non c'è verso Non mi fiderò mai Di quel merda di arma Ripeterla Non so perché Ma non mi convince Qui c'è tutto Ho un bel danno Ma buh Ho troppo lento L'anello si sta muovendo Qui c'è un flatline Tutto mio Qui c'è un R99 È veloce come me Qui c'è un alternator Qui c'è un OPAP Qui c'è un OPAP Castello Mio Ti serve un OPAP Ho capito che OPAP ti serve Ma non lo trovo Che non lo trovo Te lo dico Vai affanculo Te è il tuo OPAP La mia Diamo un'occhiata A quella cazzo L'assistenza Ma prima la devo trovare Perché si chiude La puttana Si chiude lontano Grazie Ci vede in gabbia Grazie Qui c'è uno scudo Evo Quando vuoi hermano Potrebbe esserci qualcosa di interessante lì Più veloce C'è una torre di lancio laggiù Qui c'è un Mastiff Livello 2 Tutto mio Potrebbe farmi incomodo Ora mi sto prendendo bene con il Mastiff Io Non c'è verso Qui c'è un ottica Mi stanza ravvicinata Qui c'è una C'è un OPAP HUMMERPOINT Ha preso lui Mastiff Che pezzi è merda E niente Che bello quel flatline qua Rosso con le catene Vecchio Bello da te Ragazzi guardate Ragazzi guardate 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 C'è una torre di gibo In lontananza Ah in lì sento gibo Qui c'è un Mlock Ho trovato un caricatore energia di quei stessi qui Qui ci sono delle punizioni pesanti Ci sono da te Ce la piglio io Ok Grazie De nada Rimbambiti O qualcosa del genere Forse c'è del bottino qui Vado a vedere Andiamo qui Quale cazzo vuoi andare a quel posto lì per dio Che è solo la morte lì Allora voi ci andate Io ci vado con calma E vedo voi a terra Va bene Mi piace come idea E saranno più uccisioni Cosa c'è qua giù Vedo un nemico là giù Il campione non mi ha messo nessuna paura C'è uno volete uccisioni E non sono io Metti il totemma amico Che andiamo a pigliarli Che andiamo a pigliarli Che andiamo a pigliarli Qui c'è un otturatore per shotgun Livello 3 No 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 Yeah Ehi, elettricatore in discesa WTF? Scusa Scusa Ehi, guai si spadano a me Arriva l'imbroglione Ricarico gli scudi Ci sarò dei nemici, andiamo Sotto attacco Arrivale Sotto attacco Sotto attacco Sotto attacco Sotto attacco non ci sono abbastanza me in questo posto 30 secondi alla chiusura dell'anello mi piace arrivare mamma mia continuo a correre sto gioco sto ricaricando gli scudi mi servono degli scudi uso un kit finito ultimamente tanto no 2 un attimo un attimo mamma mia ma che serata due vittoria ma cattolica buttano perché stiamo tornando su perché dobbiamo tornare su domanda proprio perché dobbiamo un attimo mi servono degli scudi aah bambino dai dai in quattro mi sparano in otto ma che cazzo è sparate questo qua che è da solo no sparano a me porco dio eh vabbè abbiamo un problema l'ho presa figa ma dio cane ma basta 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 cosa triste che cosa triste perco dio cioè dio cane dio porco questo qua è da solo che spara a me siamo in 3 sparare a questo qua e questi qua dove sparano a noi dio porco invece questo qua che è da solo figa va va un figa va grazie a tutti